Benvenuti in Geppetto, che cazzo ma è già buio! Benvenuti in Geppetto Simulator ragazzi Allora, prima cosa Ho fame fra il pasto caldo Fra il pasto Ho fa-fra-geppetto Non va a lavorare a pancia vuota Ecco, non ho messo il pasto L'ahimè, oh sì Ah, questo mi terrà al calduccio lo stomaco Mentre mi abbatterò i miei alberi Oh, e quanto ci metta a cuocere Porca madonna Oh Vai un bel vomitone Adesso Allora, dov'è la mia carrucola Del Geppettone Corri Geppetto, corri Ma sguagli sono più lento Quando Quando lascia più pesante in mano Ma sei tu che hai fatto? Sì, fra È arrivato Geppetto Spaccati Ok, un albero l'ha battuto Poi passiamo con il secondo albero Rompiti 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 Oh È un altro albero andato Ma facciamo il terzo No, ti ricordi ieri Quando stiamo giocando con Paiara Che avevamo fatto la capanna Eravamo andassi a dormire Poi quando avevamo finito di dormire Avevamo sentito Eh sì, fra Fra proprio Fra io proprio nel video All'inizio Quando stavo editando il Mi sa la parte 2 Era, oh no È la parte 3 Proprio inizia il video Sento Ma andiamo a dormire Oh, fra Mai messo che Che si dorme Ok, vai Metti Che cosa devi vedere Una cosa sulle di sette Ok Fra il geppetto Sta facendo la scorpacciata Fra Geppetto Ha raccolto 3 alberi Fra Lo vedi dove c'è il martello Portali là Devo Fra Guarda chi sta arrivando La guarda chi sta arrivando Cazzo E ma porca Guarda chi sta arrivando Fra Guarda chi sta arrivando Fra Eta vado a depositarlo Nel Aspetta Aspetta No, fra Vieni a prendertelo tu Non ho voglia Ma vieni qua Mi servono tutti Madonna mia No, fra Te li vai a prendere Dal deposito Scusa Lo puoi Aspetta Alla Fammi andare Fammi andare Dove sta Dove è la casa Sull'albero Ok Lì Ecco Vedi qua Bastano i depositi Fra 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 Oddio Fra Dov'è che Dov'è Fra Oddio Dov'è 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 Ma cos'è Ma cos'è No, aspetta Fammi lo decapitare Ah, ma aveva un bastone schifoso Un vestito di Halloween Ah Kree Oh, Kree Kree, dove cazzo vai Oh, uno si è appeso Fra Uno si è appena Ah, no, non ha un certo Fra c'è un altro là Dove Si mangia il petto Mo deve lavorare Sti bastardi Devono mettersi In mezzo Ah, un geppetto Adò la Di decapitola Mamma C'è Anzi Mi prendo gli arti Divento geppetto macellaio Perché Mi servono i loro arti Da mangiare Fra Geppetto Ha fame Oh, abbiamo finito la baracca E' bassa Ma quanti cazzo siete Tanti fra Tanti Ma vuoi chiudere sta porta Fra qua c'è la scorpata Fra c'è la scorpacciata qua Fra Fra sto cucinando tutti i loro fratelli e gemelli Fra Fra Questi qua E' l'intero cadà Il corpo intero Questo Ah, fra Vi sami quanto Ah, no, è adesso pronto Vai, così mi rifullo Ok Adesso A pancia vuota E a culo sporco Ci andiamo a A culo sporco Oh, ma la Oh, il mio stipendio dei tronchi Te li sei fottuti i trucchi No, l'ho usato per la comunità Eh, sì Sì, ma fra Io con quelli Fra, se domani il padrone Non mi vede con i tronchi dentro al Ai depositi Mi frusta Chi cazzo è? Ah, sei tu con il carretto No, sarò io con il carretto Di nononcino Chi cazzo è? Cos'è? Si sono gli etruschi con il carretto Che ti investono Che ti investono con Amazon Donna mia Mi Fra Mi investono con Amazon Ne rompo Più un altro Odona Muori Oh Ma fra la scorpacciata qua Direi Vai che sta diventando giorno Ok Allora Prendo il mio carretto Ci posizioniamo in questo bel punto E rompiamo altri due alberi Fra, ma cosa qua non è più The Forest Questo qua è Geppetto Simulator E basta Allora, questa sarà la capanna Dove discutiamo dei piani Tipo dei progetti da fare Quelle cose Ok, ok Ma Oh Via dal mio campo Minchia, fra Ciao Gente Fra, vieni un attimo a prenderti Oh, c'è gente Dove? Vieni Vieni cosa Oh, cazzo Bra, mi fa il giro Dieci Senti, andiamo in casa Tanto siamo due Minchia, che lento Con la tua acqua Tu adesso sarai la mia cena Hai capito Vaffanculo Fagli A prendi Prendi la sua arma Prendi la sua arma Che ce l'ho Anch'io fa un botto male Per terra Ah, quindi Sarà anche Geppetto armato Io vorrei andare a salvare Perché non vorrei Eh, in effetti Cazzo No, perché adesso Mi sa che da questo giorno in poi Potrebbero arrivare Stronzoni Ah, fra l'arma 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 Potrebbe arrivare Mimmo Che con il suo cocco Ah, ti fanno esplodere la base I bimbi Eh Hanno il cocco esplosivo Capisco Hanno l'infiammazione No, no, no L'oroteano Ah, iniziano a fare l'elicottero E fanno tutto tu Con le assi della casa Eh, e quindi io direi Di fare molte più trappole Oppure Direttamente Un muro difensivo Tutto intorno Eh Sì, fra Ma il loro cocco è così forte Che romperà anche il muro difensivo Non credo Comunque ci sto rubando Oh, e vaffanculo No Allora Leva Leva Frati picchio Frati picchio Oh, serve per il Per la comunità Sì, ma qua Quello che prendi tronchi Sono io Non tu Hai capito Se vuoi tronchi Vatteli a prendere Dai depositi Trappendili dai depositi Tronchi Stanno i dip Cioè Ho fatto i depositi Fatti apposta E tu non li usi Dove cazzo Sono finiti i tronchi Cioè Guarda che depositori Ma sei un bastardo Ok, il tavolo è pronto Ma il tavolo di sta minchia I miei tronchi Ok, adesso È arrivato Amazon Posso fare un tiro al bersaio Così mi alleno con l'arco Ok, sì Perché Visto che mi sono fatto l'arco All'arco No, fraccio un signore da me Ma c'è Mimmo Eh sì Mi sa che è proprio Mimmo Però io non ho l'arma che hai detto tu Cioè No, non è un Mimmo No, non è un Mimmo È un tizio normale Ma è Ah no È quello con l'arma bella Ahia Non fra solo due Fra ma ha fatto qualcuno Va anche Non ti interrompe il lavoro di Mimmo Brutti Aspetta voglio provare l'arco Aspetta Va Io vado come Mimmo un tempo Mimmo ti rompe E che cazzo Sì l'ho preso Sì ma loro me l'ho preso fra È morto Non è morto Fra io sono morto Vedimi a reanimare Non mi ha chagato Fra Vedimi a reanimare Fra aspetta Aspetta Veloce Fra questo corre Fra il cocco esplosivo Oh veloce Se mo Se mo mi esce La schermata Giorni sopravvissuti Zero Mincazzo Non mi Mincazzo Fra veloce Era tostissimo Oh E so Se mo mi hai fottuto la legna Mincazzo Più di Fra fra mi dai l'arma Dei tizi Aspetta Ma perché sei un pelato Della minchia Fra No Ok Oh l'arma Quanto danno fa Minchia Ma Fra ma la mia ascia Mi sa che fa più danno Ah no fa più danno questo Etta la mia ascia è più veloce della mazza Eh si è lentissima la mazza Fra ma la mia No no fra ma la mia ascia è più lenta Ah no se spamma è più veloce È solo il primo attacco che è più lento Vabbè Ho i miei tronchi del cazzo Fra ma ti sei fottuto i miei tronchi Oh Ma 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 no Fra Vuoi fare la catapulta Ah la catapulta posso fare Ma cos'è sta ventalena Perché c'è un uccello morto A cazzo di cane per terra Comunque mi dice che sono sporco di sangue E che mi devo sciacquare E sono porco e sporco Ah perché sei porco Abbattiamo un altro tree Fra Fra perché Ah no Fra io direi Di iniziare con le mura Perché stanno per arrivare i mimmi con il coq esplosivo Fra io c'ho un tronco che non mi entra nel coq Vorresti prenderlo tu Facciamoli di legno le mura così Tieni fra utilizzare sto tronco Non mi corre in casa che io sento Ma il tronco che ti ho buttato l'hai preso Oh fra Sì Spedizione mimosa Fra porta tutti i tronchi del tuo stipendio Io prendo i tronchi tu li vai a posizionare Se vai al deposito Trovi uno stronzone di tipo 300 stack di legno Fra mi puoi fare un altro deposito Si sono riempiti tutti Minchia fra il quanto Sono finiti i depositi Me ne fai un altro I tre depositi sono finiti Mi ne servono Anzi intanto ti procuro dei bastoncini Per fare gli altri depositi Ce li hai già Ce li hai gli altri bastoncini Per fare il deposito No misera Ok vieni Io ce li ho tanti Tieni fra Fra gli stick Di stick Di stick Oh Oh aspetta Di stecchi Quanti te ne ho dati Uno No Molte ne devo dare tutti a mano E che cazzo Che cazzo Che cazzo ho fatto Ah ho creato una lancia Fra ma la lancia come funziona E' una lancia Ma la posso Come la lancio Tenendo premuto le due Non la lancia fra Guarda Oh fra Ah tenendo premuto L2 La posso riprendere la lancia Sì Allora comunque a questi Ma la lancia Si 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 scalfisce ogni colpo che do Fra non ti preoccupare per i depositi Tanto la morte Gli devo svuotare tutti Vabbè ma me ne fai un terzo Un quarto in più Si no veloce No fammelo O dopo Aspetta No No devo fare le migra Sennò qua si inculano Ok Vado a prendere gli altri tronchi Anche se ne abbiamo già in abbondanza Fra ma Fra ma Ma questo qua non è più foresta Qua è deforestazione simulator Cioè fra stiamo rompendo la La foresta amazzonica La stiamo distruggendo A furia di rompere gli alberi Anche se questa è quella di mercadante Oh 12 faccio il fuoco quello grande grande a che serve il fuoco quello grande 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 coc perché così questo non si distrugge ah non si rompe quello grande no cioè resta per sempre quello grande esatto e poi è anche più bello il pisello ok tronchi finiti andiamo a rilasciare gli altri ehi il mio stipendio guarda che bello però eh si è molto più bello finchia fra stiamo creando una bassa di sopravvivenza sembra che devono arrivare le ondate zombie però mi sa che su questo non si può cucinare e infatti ah non si può cucinare sul fuoco grosso eh no e cosa serve allora il fuoco grosso se non si può cucinare e perché il fuoco no perché il fuoco tiene lontano quelli i chi così esplosivi i signori i coq i mimmi noi quelli normali piccoli ah bra sta arrivando amazon con le scorte amazon direttamente dall'ikea aspettiamo al forse si può scusa hai qualcosa da cucinare ehm si c'ho le gambe ok prova a mettere sul fuoco grande io intanto su vuoto qua metti tutti in uno poi finito puoi mettere no e allora metti su quello piccolo ah è vero che a me la fame eh si ho un po' di fame intanto fra chiama il quando è pronto quando è pronta la si si perché non vuoi rimangiarmi poi tutto carbonizzato il coq a me piace fresco non carbonizzato ma c'è solo un coq e io ho molta fame e allora metti altri coq e non ce li ho vabbè poi arrivo io metto gli altri coq è troppo tardi ho già mangiato fra ma io non io non ho la stamina per piccolare gli alberi mi serve il cibo oh si hai antrafame fra no ok occhio a non beccare la trappola perché in una posizione un po' un po' sus è in mezzo un po' al cazzo ah è in mezzo allo stronzo metti vuoi rompere albero della minchia ok albero rotto rompiamo anche questo aspetta che io devo continuare comunque il progetto qua perché ok un altro ha rotto secondo me ma io se lo facciamo di legno perché di pietra poi ci mettiamo troppo vabbè comunque lo no ma hanno anche la stessa resistenza oh allora e poi ce ne vogliono di più di pietre se io ho la sensazione che ci entreranno lo stesso anche io c'è perché queste mura poi di legno quanto possono durare c'è fra il mimo con il coq le distrugge normalissimamente la giornata fra ma io sto di boh io sto disboscando tutto praticamente a pure di rompere alberi ma è buono anzi più dissi sboschi più buono perché ha più più torgo bosco fra perché così si vede meglio la notte ok e ma la fauna selvatica e riscaldamento globale che cazzo bene noi dobbiamo farsi il cammino che cazzo bene cioè fra il cammino fra mi fa un altro deposito che sono finite che è finita la legna ma quanto su veloce a me lo posso picchiare anche con il bastone vai crafta meno un altro schiavo oh che vuoi tu sei uno schiavo non è vero veloce crafta assisto sta vai 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 tutto de ma orca ma no e che cazzo ok adesso geppetto mo che anzi fra posso rompere sto albero che un pochino in mezzo allo stronzo quale questo eeeh aspetta ora un po io così ciò rompo dall'altro giusto ok muo frasi glitcha ah è vero devo salvare non ho salvato minchia fra ma ci stiamo facendo la villona qua ok vai aspetta fammi saldo ma in questa ma nella casa sull'albero possiamo no 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 Grazie per la visione!